Per 14 anni mi sono dato da fare in diversi campi, calcio, vela, computer, tennis, persino gli scatti. Può succedere di tutto in questo posto, finché non è arrivato lui. Che diavolo succede la gente? So che nessun grande uomo ha mai dormito per terra. Attraversate quel ponte camminando sempre al centro. Io ho paura. Avete mai saputo che Da Vinci abbia piantato una tenda? No. Fanno una vita molto dura i conteggiatori. Maxi, vetti. Attenzione. Porca miseria. Ragazzi, da quella parte. Bravo. Lo so che ce la puoi fare. Coraggio, Alan, lanciati. Aiuto. Dammi la mano, Alan. Non aver paura. Mettiti in casa. Che devo fare? Nel tuo messo. No. Kevin Bacon. Come ha fatto tuo padre a convincerti a fare questa gita? Sono anesti. Ha ragione. Non succederà di nuovo. No. Una gita pericolosa. La mia scelta è... Niente campeggio. No. No. No.